subito 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 guarda che bello che bello alzi tacco e moscio bello bello aperto prima non si poteva toccare non poteva ecco l'entrato questa qua no invece sfuggito scivolato così troppo già lui è giovane e flessibile non è rigido rigido lunga questa gamba bravissima così te vuoi respirare rilassati un po non mi levare questo questa è mia eccolo l'hai sentito due se ne erano giù uno sopra e che vuoi di più della vita la salute fratello aveva cesare molto salute io sono due impero romano cerchi da metterti a reggi spalle ti devi comprare per natale un regalo e alzi tacco dal tuo ufficio non vedete questo ma non di gomma vedi un po di un'altra materia come si chiama di calzi cosa sa luce per scatto cosa se non mi viene la parola non mi viene la parola non è come perché dopo se si sparisce il camo si chiamava non mi viene adesso tu ci vedi la differenza morbi non deve essere io sono alzato alle sei e mezzo ieri con loro a lavorare non c'è goderia perciò amatevi fate cose anche c'era casa ma tra voi due giocate come bambini giocate semplici fatevi semplici è meglio come stavate una volta quando stavate giovane non perdete questo è il più bel periodo e anche per tutta la vita quanti anni siete insieme venti anni venti anni domani non ci posso credere complimenti veramente mica poco io con mia mole ha fatto il 26 ma un'altra volta ti racconto come sono fatte le donne e anche i maschi perché sono dottore di queste cose ecco voi avete aspettato avete fatto tutto possibile da arrivare al punto globale da avere i bambini e avete passato una lunga vita insieme a ludico come dottore perché non tutti supportano questi difficili anni di sopravvivenza con i partner è molto difficile di primo posto dove c'è amore deve stare il sesso se c'è sesso devi cercare amore se uno di quello manca non c'è niente devi sapere e muove tutto si eccovi qua guardi che grande gambe c'hai guarda senti che grande gambe io come c'entro qua in questi muscoli madonna sei cattopi una coppita madonna santa quadricipito ecco così la gambe piede vedi questa piede che è più lungo faccio un massaggio qui da scendere i tendini vediamo entro qui dentro da liberare non c'è lui non sente dolore lui l'arc ce l'ha vedi non è andata vale l'arc non è piedi piatti questo va bene ma la differenza enorme qui fra due gambe guardi come li mantieni guardi questa destra come la mantieni e non puoi mantenere così la gamba ragazzo tu devi stare dritto ecco vedi come è entrata ecco l'entrata ecco ti è entrata e basta mica ti devo rompere adesso simon è andato lontano adesso non vuole vedere sentire nessuno vuole riposare si si lui gode ma sta le mani duri da entrare e guardi come si è rigido e vedi c'è un'ora non ti basta fratellucico da aprirti perché il corpo è pesante rigido e si è sposta tu sei spostato in questo mese ti è andato storto il bacino e io adesso ti devo mettere il bacino è storto così livello con un centimetro tu hai più spostato e quello lo dà fastidio e dovevamo mettere a posto dovevamo mettere a posto la schiena e così piano piano sarà giusto ma sopra devi mettere reggi spalle perché cade la testa davanti e tutti i muscoli dopo sono diventano così come il fune di ponte di ponte come reggio il ponte il fune e lui impazzisce dopo non lo so uno non mi credeva uno un dottore lì aveva detto apri youtube e vedi come sono io lì dove tu perché l'ho aperto ma che veramente 3 milioni hai capito vuole non vedere il mio massaggio questo sono dall'estero mi piace massaggio perché qui in italia qui ci viene a fare questo massaggio non ma trovo nessuno mi piace ecco guarda i muscoli sono ti prendo due muscoli quadricipito è questo abduttore qui questo qui non è muscolo devo sapere questa è gomma ho detto già una volta mi sembra quel gomma ti devo aprire fino qui dall'attaccavento oh bravo ci venite ad aiutare massimo massimo non lo so sul cognome va bene massimo un ragazzo qui mi è venuto soffre con sue gambe debole guardi che ginocchio debole c'è l'ho sentito quello è grugginito è vecchio diventato fratello dopo non ci puoi camminare più con questo gigi tu devi fare qualcosa per te adesso quando sei giovane dopo è tardi se stanno lei ti compro una pomade devi mettere un po qui da sciogliere capitano Kiko dammi tua energia capitano 3996 3996 mi chiamo voglio contatto con voi datemi capitano Kiko ma mi guarda non ho più inizioso dai da entrare entratemi qua datemi questa energia guardi 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 guarda guarda come madonna sfasciato ora ci senti una spero ci senti una energia io ti ho messo olio e quando c'è olio non mi passa bene mia energia cosmica qui da mia mano da sinistra entra esce una energia straordinaria che tu non puoi immaginare lo senterai ora devo pulire un po' l'olio qui veramente sono troppo debole ginocchio fratello Massimo non mi piace Massimo è la madonsca benedetta attacca qua lo senti senti qui da entrare 3996 3996 il mio codice mi chiamo per favore dai da vedere questo ragazzo lui non crede ci esistono gli extradesti io dico ci esistono senza di voi che facciamo dai ragazzo ti faccio bene lo senti un po' il calore qui è destra e fredda lo senti come è fredda già da sinistra mia mano tua gamba destra entra con energia qui proprio qui qui lo sento anche io è vero fratello bravo voglio ci ti aiuto devi sapere ci esistono loro sono tra noi mi danno aiutano io così ti devo stare 7-8 10 minuti 8 minuti è mia forza che mi danno energia cosmica ti do a te da sentirti un po' bene sei coperto non senti freddo io ti devo alzare questa gamba è andata fratello ti lo dico da adesso c'è molto male non mi piace tua gamba caspita come ci vivi dopo quando sei più vecchio ecco guardati com'è guardate c'è il limite di tutto ecco dai dai e non ci esce più vedi lui è uscito molto male questo ma tu non puoi immaginare cosa è successo guardi 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 il tendine fa male è vero ma si eh si ma adesso io ti do energia ma senti che energia esce come è caldo diventato se vuoi vieni da toccare tocco da prendere perché non funziona bene tu ti fai incrociare le gambe si non li devi incrociare ecco perché è un'altra cosa ho toccato il ginocchio ha detto qui non funziona lui non devi incrociare mai sulle gambe qui ginocchiera la ginocchia non la devi mettere mai così questo ferro questo è come ferro entra qui sotto dove è qui sensibile punto del gomito ah del gomito del ginocchio che è una zizza se mi tocchi questa zizza dopo ti si blocca tutta la gamba ragazzo e non funziona e tu sei sempre con piedi freddi no non ti ho spiegato ecco ti l'ho trovato io subito te lo dico i nostri miei amici ti aiutano adesso questa gamba cospi subito come l'abbiamo trovato si si è danneggiata molto danneggiata molto se deve riprendere questo ragazzo quando sei a casa ti alzi le gambe così 10-15 minuti deve riposare questo non lo devi mai piegare più non toccare questa qui è una chipernetica ma capito del nostro corpo che è molto sensibile se lo distruggi non ti funziona la gamba ragazzi tutto qua basta papà ecco 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 guarda sono tò freddo da morire Ilario che facciamo come si studia compro qualcosa da mettersi le gambe pantofoli qui vicino a te negozio pantofoli se studia tutta la vita lo sai beh una cosa devi studiare non tanto da sapere il mondo che ti interessa a te è il mondo mi interessa attacca solo tu cosa la vuoi da stare bene bravo in tuo mistiere e ti basta e avanza se no è inutile da sapere tutto e dopo diventi schizofrenico ecco vedi come sono entrato qui dentro profondo nella zizzata l'hai toccato una volta in tua vita dai un dito dai qui la mano lo zizza la vedi sì ecco questa è la zizzata tutte e due e lui li ha danneggiato perciò non funziona il meccanismo di di nervo che ti porta dopo il sangue con questo se reggira è morto vediamo perciò ci serve la genocchiera e il cavigliere ok alzi il tacco e sopra reggi spalle quanti anni hai fratello sei 40 48 38 è 40 anni ti ho detto 40 sì eccola proprio adesso tu sei uscito dall'età di Gesù Cristo lo sai quando è l'età di Gesù Cristo 33 36 tre anni ti sono dati da sapere cosa fai in tua vita ecco anche questa ma tutto proprio le gambe sono deboli due pieducci qua intorno alla caviglia tutto è morbido fino delicato qui è sviluppato e qui come mai ma e che hai fatto sono palestra extra per questi muscoli o no sì pensi può darsi in tua vita hai fatto più qua non sei stato calciatore diciamo no eccolo vedi come è uscito di dolore io ti faccio come un dottore aspetta da mettere questo intervento alza Niccoletto bravo sì appoggia eccolo sentito bravo apri eccolo eccola bravo ragazzo è andato l'hai sentito vero di destra bravo ecco perché io devo entrare in questa parte destra destra mi interessa se è sporcato è vero io lavoro di qua oggi ho messo uno di cento chili figurati lo stesso di scopatì ma scopatì come è difficile così sono salito ecco ti qua mettiti comodo girami qua tua parte destra il muscolo lunghissimo dorsale mi serve e dopo ci scendiamo verso il bacino guarda allungati respiri e butti fuori tutto che devo aprire il muscolo fai in maschera va ancora ecco ecco di qua un bacino scende è pesante non mi piegare benedetti è sciolto? vedi com'è? ah hai visto? scriviti ti ho fatto sciogliere in un minuto guardi che bellezza guardi che è diventato wow bello bello aperto prima non si poteva toccare non poteva entrare guardi ecco 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 ecco